Il franchise di Fast & Furious è qualcosa di unico. Da finalmente risalto alla figura della donna nei film d'azione. Ecco perché è così emozionante. Ci sono tante donne toste in Fast 9. Vai mia, sei sopra! Le donne in Fast prendono il sopravvento. Alzano l'asticella. Puoi tirare il freno per me? Fanno l'imprevedibile. È questo che rende Fast & Furious speciale. In questo film non ci tiriamo indietro. Se c'è da entrare in azione. È un Fast & Furious da paura. Le donne in Fast & Furious dimostrano al mondo cosa sanno fare. Ecco perché è così figo. Sì! No, you ain't ready.